Grande corsa a Montanino per il 56esimo trofeo degli sportivi, gara per Elite d'Under 23 dopo la pauta del 2016. Infatti gli appassionati hanno potuto godere di una manifestazione di livello elevatissimo con ritmo di oltre 41 km l'ora e record di partecipanti con 180 al via nella frazione reggellese. Scatti e controscatti con gruppone però sempre pronto a rispondere e rintuzzare i vari vantaggi accumulati nel corso dei giri del circuito con il tentativo giusto però che viene piazzato nel finale da parte di Andrea Tognatti della Colpa che Antonio Zullo del team Rosini, la squadra valdarnese allenata da Chioccioli. Il Trentino ha avuto la meglio allo sprint con gli inseguitori peraltro che proprio sul traguardo hanno ripreso i fuggitivi. A completare il podio Matteo Moschetti della Viris Macerati, una squadra che di fatto è piazzato anche i primi fuori dal podio stesso, ovvero Cima e Mufolini. Per Tognatti è la quarta vittoria nell'ambito Elite d'Unter 23 ed attenzione che domani ancora ciclismo protagonista, stavolta a San Leolino. Sicuramente anche oggi sono riuscito a fare un'ottima corsa grazie anche e soprattutto alla squadra. L'inizio di stagione è stato fantastico fino adesso, speriamo che continui così fino... A salita sono rimasto da solo, poi è rientrato Tognatti, è stato d'aiuto in pianura perché mi ha dato una bella mano, però sapevo che comunque in volata era più forte, sta attraversando un grande momento di forma e ho cercato di anticiparlo ma era più veloce.